Ciao ragazzi, oggi guida su Diacono Artoforte, un epico veramente veramente fortissimo anche se siete soprattutto, devo dire, se siete dei nuovi giocatori o comunque se giocate da pochi mesi a raid andiamo a conoscerlo meglio, poi vedremo tutto di lui, la build migliore, le maestrie, dove più forte, eccetera eccetera partiamo dalle destrezze allora la prima destrezza, attacco il nemico due volte, ogni colpo ha un 30% di probabilità che diventa 50 con i tomi di piazzare questo sanguisuga per due turni, parleremo dopo dei tomi seconda destrezza, attacca tutti i nemici, questo è molto importante con i tomi ha un 100% di possibilità di piazzare riduce difesa per due turni e può farla ogni tre turni con i tomi e poi terza destrezza, anche questa altrettanto importante, ogni tre turni con i tomi riempie del 15% il contatore di turno di tutti gli alleati e riduce di altrettanto quelli dei nemici e in più assegna un turno extra, questa è la parte forte di questo campione poi ha un'aura che funziona in tutte le battaglie e che dà una velocità agli alleati del 19% quindi lui usa innanzitutto la terza destrezza per creare un gap in velocità tra i nostri campioni e quelli dell'avversario si prende subito un turno extra e piazza il riduce difesa su tutti i nemici poi farà per un turnicino la prima destrezza e ritornerà a fare nuovamente la terza perché intanto il turno extra si è ridotto di un turno il tempo di ricarica quindi praticamente questa è come se ce l'avesse ogni due turni la terza destrezza e può continuamente allargare questo gap in velocità, in questo gap in contatore di turno tra noi e gli avversari e questo lo rende molto forte sia nelle roccaforti che anche in arena perché in arena può fare, riduci il contatore di turno e riempie il nostro si prende un turno extra e anche riduce la difesa quindi è come se occupasse due ruoli, cioè il ruolo del riduci difesa e il ruolo dell'acceleratore quindi è un epico veramente molto molto forte ed è per questo che vi dico che su di lui i tomi, almeno sulla seconda e sulla terza destrezza sarebbero assolutamente necessari in particolare sulla seconda per mettere questo meno 2 ai tempi di ricarica ma anche sulla terza per arrivare al 100% di possibilità di piazzare il riduci difesa e anche questo meno 1 ai tempi di ricarica è molto molto utile e questo sanguisuga sulla prima destrezza non so quanto possa essere utile a meno che voi non lo utilizziate contro il boss del clan a livelli magari non altissimi perché sanguisuga potrebbe aiutarvi a curare i vostri campioni se non hanno un set rubavita quindi in quel caso è molto importante se non avete il set rubavita su tutti i vostri campioni in caso contrario avete visto come ho fatto io anche se non mettete tutti i tomi sulla prima destrezza non cambia moltissimo diciamo quindi passiamo alla mia build ho cercato di trattenermi un po' con la build quindi non è una build di quelle pazzesche è comunque molto forte ma non è pazzesca infatti mi sono mantenuto con la velocità quali sono le due statistiche principali fondamentali su cui concentrarvi quando andate a buildare diacono sono la velocità e la precisione per affrontare le roccaforti di alto livello diciamo se volete se siete dei giocatori non veterani diciamo volete arrivare alle fasi 20 delle roccaforti vi serve una precisione di circa 200 almeno 200 quindi cercate di arrivare a quel numero velocità quanto più alta possibile perché più veloce è diacono più forte sarà perché più volte riuscirà a fare le sue destrezze quindi riduci difesa riempire il contatore di turno e ridurlo e quindi diventerà molto molto più forte poi se vi volete concentrare su qualcos'altro visto che lui è un campione assistenza non deve fare danni concentratevi a farlo mantenere in vita quindi molta vita e molta difesa non gli serve assolutamente altro infatti io sono andato vi mostro tutti i manufatti sono andato a mettere vita percentuale sui guanti e difesa percentuale sulla corazza mettetene uno dei due vita percentuale l'altro difesa percentuale così gliele fate salire entrambe perché ha delle buone stat di base sia come vita che come difesa ma anche come velocità e stivali ovviamente velocità quindi vi mostro un po' tutto vedete che l'arma è all'8 qualcuno è ancora al 12 non mi sono voluto spingere oltre diciamo però molto importante cercare sempre la velocità come sotto statistica avete visto magari anche la precisione ma importantissima la velocità infatti l'ho presa praticamente dovunque o quasi poi anello o vita o difesa non cambia tantissimo l'importante è che abbia molta o vita percentuale o difesa percentuale o entrambe poi amuleto anche qua o vita o difesa l'importante è che abbia molta precisione come sotto statistica e poi standardo vi consiglio assolutamente precisione magari con velocità come sotto statistica o comunque qualche statistica difensiva come vita o difesa a livello di set io vi consiglio come potete vedere da qui set velocità precisione percezione basta non gli serve nient'altro qualsiasi altro set di manufatti sarebbe diciamo più deleterio per lui che deve essere molto molto veloce quindi ovviamente anche velocità divina o qualcosa del genere però molto molto veloce e molto molto preciso questi sono i migliori set che possiate mettergli anzi se abbondate un po' troppo in precisione nel senso vi serve 200 di precisione ne avete di più togliete un set precisione o percezione e mettetegli un altro set velocità perché appunto più veloce è più veloce lo fate e più forte sarà quindi il top sarebbe tre set velocità con un po' di velocità e precisione come sotto statistica tanto la precisione la fate con lo standardo principalmente e magari potete aiutarvi con le maestrie che io non ho messo ma se lo usate per esempio in arena come vostro leader siete ancora agli inizi io vi consiglio assolutamente di andare a prendere questo occhio d'aquila con più 50 di precisione perché vi ricordo che la precisione gli serve sia per ridurre il contatore di turno ai nemici che per ridurre la difesa per piazzare questo debuff riduci difesa quindi è molto molto importante altrimenti se lo usate principalmente nel roccaforti io vi consiglio di prendere il ramo rosso al solito partendo da tasso e danno e poi andando lungo questa linea verticale fino a prendere maestro bellico così magari vi può dare una mano in più facendo dei danni ai boss delle roccaforti, delle critte di fazione della torre sventura è fortissimo in qualunque posto lo mettiate davvero anche contro il boss del clan vi ho detto non ad altissimi livelli in quel caso sarebbe fondamentale maestro bellico se lo usate soltanto in arena o quasi soltanto in arena allora vi consiglio di scendere qua sotto a prendere questo più 50 di precisione magari partendo da questi tre che vi aiutano con la precisione poi vi consiglio assolutamente sortilegio molto molto forte come maestria e poi una di queste due io direi questo qua che vi dà una probabilità in più quindi di piazzare quel riduce difesa per tre turni anziché due e poi andate a prendere questo più 50 di precisione nel caso in cui mettiate le blu fino all'ultima quindi non vi interessa arrivare a maestro bellico allora andate a prendere le verdi quindi fate blu e verdi in tutti gli altri casi quindi se lo usate principalmente per roccaforti torresventura eccetera eccetera compreso boss del clan andate su rosse e blu o rosse e verdi rosse e verdi ve le consiglierei in particolare per il boss del clan rosse e blu per tutti gli altri casi se volete avere un diacono che sia generalmente forte ovunque quindi arrivate alle rosse fino al maestro bellico e prendete le blu fino a questa qua ma vediamolo adesso in azione sarà un po' difficile da testarlo a oro 4 con questa build perché appunto come vi ho detto non gli ho dato tantissima velocità si potrebbe provare ad affrontare un team del genere che così non ha il giudicatore mi supera un po' con l'aura in velocità però magari cercheremo di creare un team apposito ecco potremmo andare con questo team ho cercato di non prendere dei leggendari per farvi capire che può essere forte anche senza un team di leggendari quindi agli inizi, nei primi mesi di gioco anche se ok questi sono dei tre epici viola comunque per farvi capire ho messo Serris non perché ci serva il riduci difesa ma perché se il nostro avversario dovesse batterci in velocità quindi Valkyria farebbe la sua seconda destrezza e metterebbe scudo e contrattacco su tutti possiamo rimuovere i buff con Serris quindi togliamo l'automatico andiamo e vediamo se partiremo per primi o per secondi ok siamo partiti per primi non di molto c'è Sentinella che partirà prima di Corgorab ok quindi partiamo con Koopa terza destrezza io provoco tutti non ha molto senso che Koopa parta prima di Diakono dovrebbe succedere la cosa contraria però ora sono tutti provocati e questa partita diciamo che non si può già più perdere quindi Diakono dovrebbe essere ovviamente più veloce di tutti ora accelero i miei contattori di turno riduco i suoi poi piazzo riduci difesa su tutti che già c'è in realtà perché l'ha messo Serris e così uccidiamo praticamente tutti con Cranio Corona e la partita è finita si è chiusa si dovrei prendere magari un team dove lui è il primo in velocità però altri forse questo ha una potenza bassa potrei aspettarmi una Lissandra non velocissima però appunto credo di non poterci riuscire con un Diakono con circa 230 di velocità quindi porterò anch'io la mia Lissandra in modo tale che possa superarla in velocità e andare col doppio acceleratore il fatto è che visto che lui occupa due ruoli in questo team Arena cioè nel senso fa l'acceleratore e il riduci difesa io potrei anche non aver bisogno di cupa incantatrice perché accelero, accelero e ho già il riduci difesa quindi addirittura io potrei se fossi in un giocatore alle prime armi mettere per esempio anche un doppio nuker per esempio se Cranio Corona non riesce a uccidere tutti i nemici io potrei fare acceleratore tipo se ho un acceleratore tipo Suprema Katun o Farmacista o qualcuno che potete avere agli inizi andate con quell'acceleratore più Diakono anche Gorkerab per esempio più Diakono più due nuker praticamente perché abbiamo già il doppio acceleratore e il riduci difesa in due campioni soltanto dunque mettiamo tipo non so possiamo mettere anche Keol che non è buildato benissimo e ci proviamo così quindi doppio acceleratore e doppio nuker ok la mia Lissandra è molto veloce sono sicuro di riuscire a batterlo in velocità però devo vedere anche se Diakono cioè soltanto Lissandra non mi aiuterebbe a partire prima di loro perché magari verrei interrotto devo capire se Diakono mi aiuta così tanto esatto da non farmi interrompere adesso dopo che attacca lui col suo secondo turno ok ci siamo ok perfetto perché appunto la mossa fondamentale è questa se portate due acceleratori dovete comunque non farvi interrompere cioè due acceleratori senza qualcuno che possa provocare stordire congelare tutti i nemici i vostri due acceleratori devono far prendere un turno ovviamente dopo anche ai ai nuker che in questo caso erano crani corona e Keol senza che gli avversari possano interrompervi e prendersi un turno al posto vostro e proviamo ad approfittare dell'aura velocità di Diakono perché ovviamente un'aura molto forte sarebbe quella di corno nodoso che ha il 27% di difesa ma usiamo la sua quindi il suo compito è quello di costantemente ridurre ridurre il conditore di turno dei nemici accelerando il nostro e in più mettere il riduce di difesa visto che altrimenti Mughiante metterebbe soltanto quello del 30% il problema è che contro Drago Ventiche e Blue Diakono con la seconda destrezza può fare dei colpi deboli infatti avete visto che il secondo nemico qui e il quinto nemico hanno il riduce di difesa quello piccolo del 30% che è quello di Mughiante perché lui non è riuscito a piazzarlo perché ha fatto dei colpi deboli quindi ok magari può non essere fortissimo contro Drago 20 perché è blu ma con tutti gli altri colori è molto 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 forte comunque se la cava molto bene anche di qua perché la terza destrezza essendo che non dice che attacca tutti i nemici ma soltanto che riduce il loro contatore di turno allora non attaccando non può fare colpi deboli e questo vuol dire che riduce nel 100% dei casi precisione permettendo il contatore di turno di tutti i nemici avete visto che è una macchinetta di turni praticamente dove continua a prendersi questi due turni a due alla volta quasi sempre perché usa molto molto spesso la terza destrezza avete capito come va insomma tra provocazioni stordimenti riduzione di contatore di turno i nemici non vi attaccano praticamente mai e possiamo andare fino alla fase del boss eccoci eccoci quindi al drago qual è il compito di diacono qui contro il drago ovviamente mettere il riduce difesa del 60% che ha già messo e continuamente accelerare il nostro contatore di turno vi ricordo che il boss è immune alle riduzioni di contatore di turno quindi non può essere neanche rallentato però comunque ci aiuta molto il fatto di poterci accelerare e prendere quindi più turni rispetto al drago in questo modo magari riusciamo ad avere più turni e a non farci sputare in faccia quando la barra è ancora viola ce l'abbiamo fatta per fortuna con i veleni di Keol e quindi è molto molto forte anche contro il drago in questo caso poi in teoria con la prima destrezza potrebbe anche mettere il sanguisuga per permetterci di curarci un po' perché curarsi nel tempo contro il drago che ci fa i danni poco alla volta con veleni con attacchi eccetera eccetera può essere anche molto utile vedete che adesso l'ha piazzato e quando i nostri campioni attaccheranno il drago si cureranno un pochino ok 4 minuti e mezzo abbiamo rischiato un po' di morire perché dovevo portare forse qualcuno che facesse danni in più perché contro il boss alla fine era soltanto Keol che faceva un po' di danni anche perché avete visto che nei primi turni tra riduzioni di contatore di turno e accelerazioni nostre di velocità praticamente mughiante e corno nodoso erano quasi inutili e quindi magari uno di loro lo dovevo trasformare in un altro che facesse danni o danni a dare o sempre danni tramite veleni a livello di altre roccaforti potete davvero usarlo ovunque anche per esempio contro il ragno perché riduce il contatore di turno di tutti i ragnetti e anche gli mette il riduce difesa che è molto molto importante per riuscire a ucciderli più facilmente poi può essere molto forte anche nel castello del cavaliere pirico perché attacca due volte con la prima destrezza può riuscire magari a rallentare ancora di più il cavaliere pirico e anche contro picco del golem glaciale sempre per gli stessi motivi rallenta gli altri mette il riduce difesa che sono tutte abilità molto molto utili contro il boss del clan vi dicevo che può essere forte magari non a livelli altissimi ma fino a brutale forse incubo potrebbe ancora servirvi molto sempre per quel riduce difesa che è molto importante contro il boss e anche per il sanguisuga poi per il resto torre sventura e guerra di fazione anche molto molto forte quindi se ce l'avete in cripta toglietelo fuori se non vi sembra utile utilizzatelo che è davvero molto molto forte soprattutto se siete nei primi mesi di gioco è davvero una bomba portatelo subito in alto magari non c'è bisogno che sia a livello 60 se volete portare a 6 stelle qualche altro campione fate portate qualche altro campione tanto lui riesce a mantenersi in vita diciamo buildatelo un po' più difensivo magari però prima o poi portatelo a 6 stelle perché vi da un bonus in velocità in più perché avete anche la possibilità di mettere la velocità come sottostatistica dello standard quindi se lo usate in arena sarà poi consigliabile portarlo al grado 6 detto questo spero che il video vi sia stato utile noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao